Siamo qui con Virginia Salucci che ci parlerà del suo libro. Salve, Guida Galattica per Dog Sitter è un fumetto che è nato come all'inizio una raccolta di vignette che invece con le vignette non riuscivo a raccontare bene quello che vivevo appunto la mia vita da dog sitter e piano piano sono diventate delle piccole storie quindi alla fine è nato un fumetto vero e proprio che racconta episodi della vita quotidiana di un dog sitter e appunto la vita con i cani in generale avendo cani, passando la vita con cani malgrado e nonostante i cani perché non è tutto rosa e fiori e quindi mi diverto anche a raccontare un po' le difficoltà che ci sono in questa vita. Ed è il primo libro che pubblichi oppure... Come autore completa sì, come autore completa è il primo libro che pubblico mentre ho esordito con 2700 che è sempre un prodotto Manfont e ho esordito partecipando a un capitolo di questo volume. Questo però come autore completa è il mio primo fumetto. E quali sono i tuoi progetti? Cioè intendi sempre scrivere per i cani oppure fare fumetti solo per i cani oppure hai altri progetti? No, no, assolutamente altri progetti, voglio crescere, sto crescendo sia dal punto di vista di questo tipo di fumetto ovvero sto facendo crescere questo tipo di fumetto e anche un altro tipo di fumetto cercando sempre di giocare tra l'umoristico, il grottesco, realistico cercando di saltare un po' da diversi mondi del fumetto. Grazie per la visione!